C'è una canesia dedicata allo scemo del villaggio. Quando io aspettavo, non stavo a chi. Io potevo prendere il controllo, che non veniva da fuori. Alla pietta, a rotta da cuore, palazzo da cuore. Oppure, mezzo strada. A basca stai, confusione. Tutto canesia, ma non andai con bagno. Chiudono faccia mandare, perché chiuderebbe se crede. Chiudono faccia mandare, se potevano la pazzicata. Volevano fare un giusto, ma è una saluta uomini senza crescita. È una piccola, che da sinnauta, che trattano a garbata. L'uomo è un guaccia mandare, e aprirano. Tà, 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 boom, quando passai vengenzi, boom. E' un vengenzi portai lo sien. Volevano scappare, facendo l'arte, che lo volevano scappare. Ma sicuramente dov'è parare risa, se stai affanare risa. Da su, aveva chiamato la compagna garbata. Noi non abbiamo fatto un'ora, ma sarebbe visto un signore. Ho so forse, garbata vengenzi. È il menù, che è senza senza. Grazie a tutti. Grazie a tutti! Grazie.